I finanzieri del gruppo della Guardia di Finanza di Vibo Valencia hanno individuato su un terreno di pertinenza di maniale in una zona impervia adiacente al corso del fiume Trainiti a Portosalvo nel comune di Vibo Valencia un'estesa piantagione di cannabis. La scoperta è avvenuta grazie al capillare controllo delle zone della provincia tradizionalmente idonee ad essere utilizzate alla coltivazione della cannabis e come avviene di solito le piante, circa 10.000 già messe incolture e altre 1.500 pronte per essere interrate erano abilmente occultate tra gli alti fussi di un canneto e difficilmente raggiungibili. La piantagione era anche dotata di un autonomo sistema di annaffiamento alimentato da una pompa connessa ad un motore termico che prelevava direttamente l'acqua dal corso del fiume e una volta portate a maturazione avrebbero prodotto circa 10 quintali di marijuana che sul mercato di riferimento avrebbero reso un illecito profitto superiore al milione di euro.